Le bambine e i bambini della scuola elementare di Fornovo, dell'Istituto Malerba di Fornovo, nello scorso giorno del primo giugno, prima del termine delle scuole, in collaborazione con il Parma Academy e grazie alla presenza di nove allenatori del settore giovanile del Parma, hanno trascorso una mattina tra giochi e attività dove lo spirito predominante è stato il divertimento e la condivisione. Una bella giornata di divertimento e di intrattenimento e un'altra opportunità data ai bambini e alle bambine di questa scuola per poter far sì che questa scuola faccia capire quanto stia funzionando bene e quante e quali opportunità offra ai suoi alunni. Questo evento è stato realizzato anche grazie al supporto di alcune ditte del territorio come la Barilla, la Parma, la Tacona, della Cop Collecchio che hanno donato la merenda ai ragazzi della scuola. E ovviamente è fondamentale anche la partecipazione attiva e l'organizzazione da parte delle maestre della scuola primaria di Fornovo che fa parte dell'Istituto Malerba.